L'indice di copertura dei costi del Teatro Ponchielli, dei musei civici, delle pinacoteche e degli spettacoli l'anno scorso è stato del 7%, quest'anno del 6% con una previsione di 100.000 euro di entrate e 1.600.000 di uscite. Cifre da brivido che fanno pensare a un rischio, anche perché l'anno scorso veniva segnalato un deficit di 57.000 euro. E l'anno prossimo spariranno due soci fondatori, l'Ente Provincia e la Camera di Commercio, che quindi non verseranno più quote. Inoltre quest'anno lo Stato toglie 5 milioni al Comune. Il timore quindi sembra inevitabile. Se per quest'anno la Fondazione Ponchielli reggerà, grazie a 850.000 euro di contributi e un maggiore impegno del Comune, che l'anno scorso aveva tolto 100.000 euro e quest'anno li restituisce, la prospettiva appare oscura. Infatti i pochi privati in grado di investire già sono attivati, ma come farà Cremona reggere l'urto di una spesa di un milione di euro se non arrivano altri soci fondatori o sostenitori? Dal Comune, Luca Burgazzi del PD, ci metterebbe la mano sul fuoco. Questo è un teatro di tradizione fra i meglio amministrati. Il prezzo dei biglietti non è aumentato. La forza sta in quelle 80.000 presenze l'anno e nella capacità del teatro di produrre spettacoli in misura del 60% del proprio bilancio. Un dato elevato, con danza, prosa, concerti e opere liriche. Altri teatri spendono di più per investimenti d'altro genere. Dunque, la fondazione che prende il nome dal musicista della danza delle ore non attraversa il momento peggiore, malgrado l'allarme dell'anno scorso. Anzi, è in linea con i teatri italiani. Addirittura può permettersi di sopportare un fattore negativo. I teatri che fanno più spettacoli sono meno finanziati, ma il Ponchielli insiste, malgrado di costi fissi elevati per ogni rappresentazione, come quelli per la presenza dei vigili del fuoco e dell'ambulanza, per la legge sulla sicurezza. Per tre anni, lo dice il preventivo, il Ponchielli resisterà meglio di altri teatri e anzi promette maggiore collaborazione con le realtà cittadine, ma per una scelta di partecipazione e radicamento, non per fare cassa. I bandi Cariplo arrivano provvidenziali, ma il teatro dal 1986 al 2002 è stato gestito direttamente dal Comune, dopo un periodo di gestione privata da parte dei proprietari dei palchetti. Dal 2002 la creazione della fondazione ha previsto la partecipazione dei privati alle spese. E se nel presente il Comune sostiene il proprio ruolo per il futuro, i dubbi si addensano. Chi vorrà investire fra tre anni? Se le attenzioni sembrano concentrate sui musei privati?